Nuovo caso di malasanità che uccide un paziente molisano ma questa volta sotto accusa è l'ospedale abruzzese di Vasto. Il figlio è deceduto a 40 anni il 7 agosto del 2016 dopo una serie di ricoveri. Ora il padre si è rivolto alla procura della Repubblica di Vasto dove ha presentato una denuncia querela per lesioni colpose. Tutto inizia come racconta l'esposto nel novembre del 2016 quando l'isernino Daniele Scherletich sulla serie a rotelle dall'adolescenza in seguito a un investimento viene ricoverato per una piaga da decubito presso l'ospedale di Vasto. Dopo poco arrivano le dimissioni con una diagnosi di osteomelite, vescica neurologica e infezione urinaria. Viene avviata la terapia e c'è un altro ricovero nel gennaio del 2016 ma le condizioni di salute del quarantenne peggiorano e dopo un nuovo ricovero nell'ospedale di Vasto a maggio dello stesso anno i medici diagnosticano un'infezione per la quale sarebbe opportuno un intervento di asportazione di urrene e di ricostruzione di parte della vescica con il consiglio di trasferire il paziente presso una struttura di più elevata specializzazione individuata nell'ospedale Careggi di Firenze. Daniele Scherletich viene così dimesso dalla struttura ospedaliere vastese ma, si legge nella denuncia, non avviene l'accettazione da parte del nosocomio fiorentino. Il quarantenne così torna a casa dove viene accudito dal personale infermieristico e dopo 26 giorni, trascorsi con forti dolori, viene ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Ponderano in provincia di Biella. Qui, eseguita un'attacca, viene emessa una diagnosi di carcinoma spinocellulare originatosi dalla vescica. A tale diagnosi fanno seguito tre interventi effettuati su Daniele tra il 28 giugno e il 13 luglio del 2016 ma poche settimane dopo, il 7 agosto del 2017, Daniele viene a mancare. Da allora il padre chiede giustizia e domanda se una diagnosi corretta e più tempestiva avrebbe potuto salvare la vita di suo figlio. E proprio per questo si è rivolto all'avvocato Fabrizio Zarone del Foro di Santa Maria a Capoavetere e ha presentato denuncia per lesioni colpose, chiedendo che la procura di Vasto acquisisca la documentazione medica riguardante il caso e disponga una perizia medico-legale ai fini di accertare eventuali profili di colpa medica dei sanitari dell'ospedale di Vasto. Questa la storia per sommi capi, ma la domanda finale è sempre la stessa. Perché i molisani per curarsi e affrontare patologie particolari nel 2018 devono ancora emigrare fuori regione?